La trasmissione è offerta da... Buonasera a tutti. Allora, l'avevamo promesso. Io sono Massimiliano Giacomini, è tornato con noi Enzo Pastore, segretario del CR Campania. Ciao Enzo. Ciao. Ti continuo a dare del tuo. Ciao, direttore. Spero che non fosse considerata una minaccia più che una promessa. No, era una promessa perché comunque era un'intervista interessantissima. Era una promessa, vero, vero, vero. Interessantissima, che riproporremo domenica comunque entrambe le interviste, una dopo l'altra. Ah, grazie, grazie. Posso dirti che poiché promissio boni vivi siamo a Roma, est obligatio, era un obbligo, però anche un piacere. Io spero che sia un piacere prima di un obbligo, no? O potremmo anche aggiungere pacta servanda sunt. Quando si stabilisce un pacto... Anche tu hai fatto il classico. Anche nel calcio, bisognerebbe rispettare, ma non succede. Non succede. Senti, scherzando dicevamo delle logiche della poltrona nella scorsa puntata. Eh, ma lo diciamo tu. Ma proprio tu parli di logiche della poltrona. Ma sempre in poltrona siamo. Sempre qui siamo, no? Sempre qui siamo. Allora, per fare un sunto di quello che abbiamo detto l'altra volta, abbiamo parlato tu, sono 36 anni che sei nella casa della Federcalcio. 32, 32 in federazione, 14 in una società di calcio. Siete comunque sempre nella Federcalcio, no? Anche da dirigente. Speriamo che nessuno, ripeto ciò che già dissi, sia pensando in cor suo e speriamo che se ne vada. Quando se ne va? Senti, a parte gli scherzi, tu fai parte anche della commissione dei rapporti...